yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con una nuova puntata del market watch a questo giro molto interessante perché il mercato è totalmente fuori considerate che sono stati annunciati team siamo in periodo prebanned non ci sono i cs e qualche ora fa è stata annunciata la banner giapponese quindi capite che i prezzi sono molto altalenati soprattutto della roba meta detto questo però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio per l'acquisto di fan giochi da tavolo giochi di carte soprattutto quelli ragazzi perché sono incredibili e se volete un piccolo sconto e ovviamente supportarmi vi lascio il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione in più se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo partiamo subito bene partiamo ragazzi con i team a questo giro abbiamo un prodotto veramente grosso perché all'interno è stato spoilerato che ci saranno 400 carte 50 quarter roba esclusiva roba senza senso però partiamo adesso col vedere quali sono i set annunciati abbiamo power of element fotone per nova cyberstorm access dwell is nexus age of overlords maze of memories amazing defend wild survivor e altro quindi ragazzi a questo giro ci potrebbe essere veramente di tutto considerate che il prodotto è formato da tre pacchetti come sempre a questo giro non sono state annunciate promo quindi non credo ci siano però considerate una cosa abbiamo in ogni team 24 comuni 9 ultra 3 secret e 3 quarter quindi 3 quarter assicurate considerando poi la mole di carte che ci sono dentro mi sembra anche abbastanza scontato quindi capite che a questo giro possiamo aspettarci veramente qualsiasi cosa ovviamente per rendere il prodotto ancora più appetibile konami ha deciso di mettere anche le alternative art finalmente ragazzi in giappone ne stanno spoilerando una caterba e finalmente l'hanno portata anche da noi per adesso sono state annunciate spolverino regechi rimozioni di limite sintonizzare se non ricordo male e la maganera e il dragonero che uscivano praticamente nei set side pride e site unity quindi ragazzi cosa dire sono bellissime io ammetto di aver già tentato di trovare la maganera senza riuscirci perché volevo acquistarla a un prezzo modico impossibile considerate che in giappone questa qui sta solamente a 700 euro non credo che da noi costerà così tanto però mai dire mai è da konami mi posso aspettare questo ed altro ovviamente quello che è stato scritto da konami ci possiamo aspettare che questo prodotto sia l'insieme di questi due che abbiamo citato adesso infatti non escludo che qualcosa da qua venga sicuramente tirato fuori poi non lo so sempre detto può succedere effettivamente qualsiasi cosa perché il set è enorme per quanto ne sappiamo hanno detto che c'è roba iconica quindi potrebbe esserci anche trap d'asciutta a caso totalmente così tanto per dire voglio morire non è iconica mi dispiace voglio conto voglio voglio andarti contro in questa parte perché la cosa delle cose iconiche per konami sono può essere jd è per carità però con la ristampa dei mazzi secondo me è più probabile che ci ficcio dentro carte come in forza no beh sì possibile anche in forza carte anime carte ingranaggio antico visto che comunque ne stanno uscendo molte in giappone hanno uscendo stanno uscendo qualche promo il ballista non non viene stampato da duov ci potrebbero essere l'ennesima ristampa delle divinità egizie che da noi quarter si quarter century non esistono ancora mentre in giappone si potrebbe esserci un po di tutto no vabbè sì cazzata a parte ovviamente si potrebbe esserci l'incuribo potrebbe esserci qualsiasi cosa sia stata mezza giocata con il cazzo di loghino cioè da importare dal giappone ce ne sono tantissime considerate che all'interno di un art book giapponese che ovviamente ho acquistato ci sta la promo di rota con l'artwork di skystriker quindi quella potrebbe essere una import non da escludere mettiamola così però come ho detto ci potrebbe essere qualsiasi cosa ovviamente ragazzi andiamoci adesso a vedere quali sono le carte più papabili e più interessanti dai set che abbiamo visto prima e effettivamente se sono calate o salite di prezzo partiamo adesso con pote non mi aspetto ovviamente che i prezzi delle carte siano scese perché ovviamente il prodotto è stato annunciato ieri e c'è ancora un'infinità di eventi prima di settembre quindi non avrebbe senso far calare il prezzo delle carte però possiamo capire quali sono le carte più papabili da poter trovare allora abbiamo ovviamente kurikara che si aggira ancora sui 20 euro un play set ovviamente ragazzi se si inizierà a giocare un pochino in view questa cosa questa carta come tante altre ricominceranno a salire però considerate che teoricamente se konami non fa un'altra bastardata dovrebbe stare lì dentro anche se me l'aspettavo all'interno della radici poi abbiamo stessa cosa ultimate slayer che mamma mia quanta è crollata 13 euro l'uno fino a un mese fa si vendeva sui 20 ok a posto andando avanti abbiamo anche sprite penso unica carta che è rimasta a costare sui 13 15 euro l'uno un play set 16 niente di particolare tanto gigantic che vedremo adesso sta a zero anche questa è oh vabbè 5 euro penso che sprite attualmente ve lo viltate con 50 neanche e concludiamo adesso con l'ultimo mazzo di pote ovvero sprite sprite penso questa è l'ultima carta che costa il resto penso sia tutto abbordabilissimo poi costa sta a 12 euro l'uno questa carta ovviamente sarà all'interno della rarity 2 che sarà annunciata quindi non mi aspetto che questa sia dentro i team perché doppia ristampa così a caso l'hanno già fatto ovviamente però mi sembra un po cattivo stamparla tipo in sette rarità differenti e poi un ottava all'interno di rin non lo so quello è un modo per dire non devi più costare ti devono lanciare ti devono dare fuoco andiamo adesso alla seconda espansione abbiamo fotone per nova con sargast questa carina da tirare con lo spriggans livello 4 assolutamente non è cambiata di prezzo dal momento in cui uscita si è stata tra gli 11 e i 7 euro sempre niente di più niente meno anzi il grafico da come potete vedere è leggermente in salita comunque la carta è buona andiamo avanti abbiamo ovviamente trust trust se devo essere sincero non me l'aspetto all'interno di team per il semplice motivo che l'hanno messa all'interno di maze of millenials quindi ha senso ristamparla di nuovo se fanno lo stesso trick sì ma se fanno lo stesso trick di chimera che senso ha anche chimera doveva stare allora all'interno di team e non c'era sì è possibile ma è possibile che facciano la stessa cosa che hanno fatto con forbidden droplet led 9 e poi cioè ultimate led 9 e poi nei team ok è possibile no 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 ma infatti io non c'è per quanto ne so domani potrebbero annunciarla nella rarity e ce l'avamo tutti le mani però non la riterrei così scontata che c'è all'interno di team rispetto alle altre carte che abbiamo visto prima sì ovviamente ovviamente però è una possibilità sì andiamo avanti poi abbiamo tutti i vari supporti cash tira quanto cazzo è salito il pennello pressato porca troia ma anche questo era salito ed è sceso perché se guardi il grafico 25 30 e adesso è sceso perché hanno annunciato la reprint di rarity collection 2 quindi potrebbe non esserci effettivamente questa nei team come potrebbe esserci magari in versione ultra rara versione quarter più che altro mi fa ridere che no il quarter c'è già nella rarity che questa carta post team io l'avevo vista a 7 euro vederla a 18 per me è già troppo invece è salita ancora di più e poi è riscesa ok interessante poi abbiamo ovviamente anche l'altra magia cash theosis anche questa io me la ricordavo a zero no zero no però nel senso non me la ricordava 17 euro probabilmente è perché hanno ristampato l'altra ferri gli altri che stanno nei team questa è l'unica che non ha un'effettiva reprint annunciata e quindi ovviamente gli hanno alzato il prezzo vabbè classica mossa di mercato e andiamo avanti poi abbiamo grangugnol che l'abbiamo già visto ragazzi la roba d'espia non ha senso di esistere esatto sì però verrà reprintato perché non penso abbia altre reprint quindi ma io godo perché l'ho venduto ieri se lo annunciano nei team vedrò il prezzo di questa carta a crollare bene sono contento poi abbiamo grande benvenuto labirinto carta da boh 30 euro in un periodo adesso è scesa e di salita gli hanno fatto anche la versione ultimate grazie a dio perché ha contenuto molto il suo prezzo poi abbiamo rise art altra carta cash tira boh non mi sembra sia cambiato qualcosa ha avuto degli up and down nello scorso mese ma non sembra che cash tira alla fin fine abbia rispettato le aspettative di alcuni giocatori credo perché avevo sentito parlare molto di cash tira diciamo che l'avevano riportato cioè l'avevano ricominciato a giocare però sinceramente non regge proprio quello che è il meta ferry rimane comunque una carta fortissima senza se senza ma però senza risar un pochino così andiamo avanti o andiamo a ch su ch abbiamo chaos angel anche questa ragazzi carta di cui abbiamo parlato che gli volemo di sta roba sta calando perché quando l'ho caricata io ero primo prezzo ed è scesa ancora la gente si sta cagando addosso è un pochino è giustamente poi la prospettiva di bad list adesso penso che sia determinato anche da questo fattore più che per le reprinte le cose non so poi come un mazzo sia forte allora no cash angel è un sincro generico che lo puoi giocare un po ovunque è più una questione del ok ci sono tornei no perché la carta devo pagarla così tanto non te la compro non mi serve tanto c'è va dal local già dici oh c'è l'ICS a dortmund c'è l'ICS a londra c'è sto cazzo ovvio la carta serve la carta la gente vuole giocarla deve comprarla ma c'è è un mese che non c'è un evento se non di più e quindi un po così poi sì ovviamente siamo in periodo pre band quindi ha poco senso comprare carte per buildarsi mazzi quando effettivamente può essere mazzo che vuoi giocare dove ti serve non puoi più giocarlo tutto qua bene andiamo andiamo avanti abbiamo oh la miseria la waifu questa io vorrei farla sparì ma non me la comprano quem quem perché joshua smith ha voluto giocare sto mazzo solo per farle pare palesemente sì secondo me ha una scatola piena di quem aveva perché ormai le ha piazzate tutte e ci ha fatto tipo 8 mila euro sopra sicuro 100 100 ci metto la mano sul fuoco vabbè ottimo distingato a joshua smith sì domani me lo trovo sotto casa che mi vuole croccare botte vabbè capita il mio l'ho fatto prossima carta altra carta che si gioca in despia che guarda un po il grafico sta salendo di nuovo è di spater di spater altro sincro interessante mezzo generico è un bistial si gioca in despia vabbè fa sempre il suo eh tanto è tutta quella cricca di carte che si gioca nello stesso mazzo e quindi oh sale una sale l'altra così poi ovviamente non ha una reprint quindi altra carta che sarà lì dentro prossimo albion stessa cosa guarda un po è un po calato è che ovviamente è un branded market comunque bello sì il fatto è che non poteva salire all'infinito e dopo toccati 21 ovviamente c'è stato un crollo dovuto principalmente a tutte le cose che abbiamo detto prima però ok cioè una carta che costa tanto è appena uscita non stava a più di forse 13 euro era già tanto secondo me non superava i 10 si stava sugli 8 10 euro non era simile sì sì poi venduta a 20 tanto quando sei l'unica carta che non ti reprintano per forza sali prima o poi succede questo mi è capitato con iro di pote vabbè poi abbiamo altra carta l'ulua d'elite è un pochino scesa sta sui 12 euro vabbè senza infamie senza lode poi abbiamo rimbroom vabbè ragazzi solite cose di cosa stiamo parlando tutta roba branded vabbè oh andiamo a un'altra carta andiamo a revolution sincro questa carta sta da quando è uscita sta sta sempre calando non c'è mai avuto un momento di hype si è giocata una volta in sincro appena uscito dune basta finito sua carriera da card player è finita lì diamo avanti altra carta di dune ragazzi io sta roba me la ricordavo a 3 euro l'altro giorno quando l'ho vista perché ce l'avevo dovevo caricarla l'ho vista a 13 ho detto non è possibile non è non è possibile che questa carta costi 13 euro e invece sì invece sì e diamo un valore anche a dune che case costa tipo 300 euro al posto dei normali 600 ma è questo il fatto runic è stato ristampato tutto era calato poi piano piano visto appunto a runic salire fontana leggermente e ovviamente slapnir che non ha ristampe bisogna assolutamente farlo costare 15 volte il prezzo normale che aveva di partenza stessa cosa soprattutto perché il set fa schifo e non c'è niente che costa quindi bisogna alzare il resto poi vabbè abbiamo drago cremesi questo è la versione da sneak peek la promo penso che rispetto alla versione secret sia la stessa identica cosa sì forse la secret costa un euro di più va bene abbiamo poi anima svincolata ragazzi questa roba parte che si vendeva 10 prima ma vabbè e adesso ha toccato i 17 è solo che in salita si gioca ovviamente con yubel e la mia domanda è nate in oltre a lei che lei ci sarà ci metteranno anche tutto il resto del reparto unchained secondo me sì secondo me è la volta buona che ci buttano dentro tutto se non lo vogliono ristampare prima perché non è possibile che non ristampino un mazzo che sia giocato per un formato parliamoci chiaro il resto di unchained c'ha 6 anni almeno è di norma che con quelle 400 carte che ristampano ci sarà qualcosa di vecchio come anticipavo prima io terrei d'occhio tipo le arrow mage tutte le cose che sono un po diciamo non ti uno potrebbero subire delle belle ristampe finalmente anche dopo quattro anni che non si vede una ristampa di determinate carte guarda questi mai a tempo per essere qualcosa di bellissimo guarda io me la butto lì secondo me ci sta la magia ma dolce che si dietco che sta a 15 euro è possibile tradizione esotica vediamo se c'è becco allora andiamo avanti abbiamo anche dark corridor carta per dartboard non è cioè partita da zero e poi si è stanziata sui 13 non è mai calata perché comunque il mazzo è carino altra carta che ci potrebbe essere e poi abbiamo vabbè tutto il reparto chimera ho messo lei come esempio però ok che rispetto a prima è un po calata perché prima aveva trovato molto più gioco però è un repartino onesto che comunque si è stanziato sui 12 euro luna dando avanti abbiamo ovviamente agov altro set molto interessante per il gioco di yugi soprattutto quest'anno abbiamo piccolo cavaliere che guarda un po guarda un po come è sceso non ci sono tornei e francesco giuro che se non me lo ride indietro me lo vado a prendere a casa cioè gli busso alla porta e oltre a dove mi da piccolo cavaliere mi dovrà ridare anche i soldi che mi ha fatto perde così è quattro mesi senso fisco e niente si piccolo cavaliere è crollato ma secondo me appena ricominciano gli eventi il grafico risale almeno sui 100 dai su non poco sta così poco no nel senso non costa poco 95 euro però in periodo tornei quando c'è stato il nostro ICS tutto il resto stava sui 115 anche 120 quindi mi fa strano che si venda 91 poi 91 può essere che è dall'estero o uno che se ne voleva liberare aveva bisogno di soldi classiche cose altra carta abbiamo imseti degli orus vabbè cazzo ragazzi è un reparto fortissimo diciamo che si stanzia sui 45 euro più o meno non credo non credo che scenda a parte che ok tutta roba che potrebbe essere istampata però mi hanno detto che diciamo quell'ice worm sarà molto interessante quindi potrei aspettarmi una risalita se iniziano a essere giocati tantissimo eh io adesso non ci mettevano sul fuoco il mazzo non ho testato sono cose che mi hanno detto poi prossima abbiamo wanted bello vede wanted così crollare ragazzi e allora parlamoci chiaro a parte che hanno messo wanted in giappone a 1 e vabbè quindi la gente si potrebbe cagare un pochino sotto però sui mazzi fuoco quest'anno c'è stata una speculazione che non aveva senso cioè tentavano in tutti i modi le fatte pagare una carta 90 euro ogni mazzo di quel formato da rescue ace a snake eyes e tutto quel bordello lì cioè ti costava 1000 euro ma capisci che può durare questa cosa fino a un certo momento e poi la bolla esplode? ecco la bolla esplosa dopo come si chiama bonfire che ovviamente era altra carta da 80 euro tutto il discorso è durato una settimana e mezzo e ovviamente qualcosa ha ceduto perché ovviamente la roba vecchia soprattutto non poteva continuare a costare così tanto e sono contento ma soprattutto perché con Yugi non puoi usare questa logica a punto e fine nel senso non sono carte short print è una roba che inizialmente mi pare stesse sui 35 forse dal 35 era arrivato a 50 è ancora accettabile perché dici vabbè 50 euro per la carta di peperma 80-70 euro ma di cosa stiamo parlando non è che adesso bisogna iniziare a speculare anche su ogni cosa che sia formato carta giocabile cioè fuori calma no no oh allora c'è stato un periodo storico post-Hagov che se io compravo un kiss di Agov per quanto lo pagassi anche 1200 ci plassavo sì esatto e non ha senso non funziona così purtroppo cioè sarebbe bello eh per carità diventiamo tutti ricchi e via ma non funziona così purtroppo ragazzi cioè io non ho visto ultimamente un kiss così buono pote è stato ottimo come set ma questo non aveva assolutamente senso cioè da ablanca aveva magnamut a 20 euro come super e druisum a 15 però cioè Agov ha superato ogni limite vabbè sì andiamo avanti abbiamo poi oh eh Typhoon che Typhoon rispetto a novembre-dicembre era salito adesso è leggermente sceso perché aveva toccato i tipo 38 mi sembra adesso qua non c'è nel grafico ma stava 38 si è ovviamente un pochino riabbassato sempre per la questione del non ci sono tornei poi abbiamo vabbè e altra carta di Agov ragazzi la strega la strega ha fatto un po' su e giù è salita ed è scesa perché ovviamente da giocarsi monocopia era passata a 3 poi abbiamo Arias la labyrinth che anche questa secondo me è leggermente scesa sì perché cioè stava sui 15 15 fissi eh adesso sta sugli 11 perché ovviamente si gioca molto meno poi Flamberg anche questo della roba Snake Eyes che è crollata come tutto il resto passiamo adesso a Maze of Memories altra carta che ovviamente potrebbe essere all'interno dei tin drago polvere di stelle acce il sincro anche questa cartina da 25 euro ci potrebbe stare beccarla lì dentro sarebbe anche onesto eh poi stessa cosa alla chimera non vi ho messo barone qua dentro perché non ha senso ha 12 print se volete pagarlo ancora meno non lo giocare lo metteranno common manca solo common non ha senso allora la carta sta a 1 euro e 50 ultra se tu vuoi pagarla meno e ti la metti dell'euro e 50 sei stronzo basta va a raccogliere gli asparagi con tu nonno non giocare a Yugi andiamo avanti abbiamo Amde altro set di almeno un anno fa se non di no un anno e mezzo fa dove all'interno avevamo le Mikanko che boh costano il giusto quindi nel senso c'ha poco senso di stamparle stessa cosa Purely li ristamperanno perché comunque non c'è una print extra ma allora anche Purely questo sta nella Ravidi poi vabbè abbiamo anche boh Rescue Ace ah ecco cosa però ti immagini Rescue Ace lì dentro potrebbe esserci e la versione ultra 5 euro con due Americans la versione Quarter Century ancora non c'è non c'è anche la versione Prismatica quindi ma vai a cagare andiamo avanti abbiamo adesso Wild Survivor dove all'interno abbiamo penso l'unica carta che costa Ground Zeno che sta a 25 euro diciamo carta che si gioca in Dino costa troppo per il mazzo ci sta che ci buttino dentro anche questa e poi ultime due abbiamo ho metto in paglia la tua anima di Vanquish Soul mazzo che non si incura più nessuno stessa cosa il Link che non si incura più nessuno e come minimo anche tutte le altre sì ho preso le più costose perché ovviamente ah adesso sono queste le più costose wow wow sì incredibile e per concludere andrei a dare uno sguardo a Laban e il Docigi visto che ci siamo e cosa possiamo intuire da questo? che secondo me in Giappone si drogano perché vabbè adesso il method è differente non so il method giapponese però vedere SP a 2 mi fa ride perché da noi se ne gioca 1 massimo 2 quindi un po' così Tidal ce lo possiamo aspettare anche da noi? sì quindi se ce l'avete Secret NM tenetevelo vabbè cosa altra cosa importante e vabbè a parte il Sorcer che ha l'effetto cambiato quindi ok quindi lo potremmo vedere pure da noi ma Wanted a 1 come abbiamo già detto e quindi un po' così e giocate Fire King o Rescue Ace inizio a sentirvi studare un pochino eh sento un po' già di lamentele tante Wanted che appaiono sul market ci può stare eh io non dico niente io direi io direi un occhio a Kaiser Colosseum più che altro perché è una carta che funziona molto bene in Tempai da noi è bannata da quello che so adesso ho detto una cazzata sicuramente 100% allora controlliamo controlliamo vediamo se mi farò sdeffeggiare anche in questo video o meno con la K grazie boh ci può stare è una carta che sta a 2 euro dall'estero ok c'ha doppia print altra carta da Radity a caso dopo che la sbanno sì sì potrebbe essere una una grande possibilità o un itin vabbè vediamo l'ho buttata così in itin a caso quarter century ci sta 40 euro è il mercato di Yugi e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere secondo voi 1. cosa ci saranno i din e 2. effettivamente cosa salirà e scenderà delle carte di cui abbiamo parlato detto questo ovviamente ragazzi vi ricordo Instagram like il commento e noi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti